Buonasera a tutti, se vi ricordate a conclusione del video che ho pubblicato ieri sul canale ho detto che non sapevo se oggi sarei riuscito a fare il video solito di commento dopo la del mercato di urno, perché pochi minuti fa, 50 anni fa, in quel della mia, come sapete credo ormai tutti, adorata bordighera, venivo al mondo, per cui siccome sono 50 tondi e è un traguardo comunque importante nella vita di ognuno di noi, questa sera andrò anch'io, anche se c'è poco da festeggiare in un noto ristorante del centro, perché mi sembra comunque il minimo che io festeggi almeno il giorno in cui compio 50 anni, anche se oggi sono venuto regolarmente a lavorare e ho provato ovviamente a discricarmi in questo mercato molto complesso. La filmografia che riguarda la borsa tante volte a mio avviso non è veramente compresa fino a fondo, perché sento soprattutto i giovani che parlano di The Wolf of Wall Street, ovviamente quelli come me sono legatissimi al primo Wall Street con Gordon Ghecco in piena forma e oggi vi lancio questo invito, visto che molti di voi apprezzano il mio operato, Gordon Ghecco direbbe stupitemi, è il mio compleanno, facciamo sì che questo diventi il video con più like di tutti quelli che ha avuto il canale e sarà il vostro regalo graditissimo per me. Però siccome oggi ho operato e ho seguito con attenzione il mercato, vi posso raccontare e vi condivido ovviamente lo schermo per potervi fare come al solito un quadro della situazione. La situazione è decisamente negativa, vedete che il Dow Jones ha perso anche il minimo del 2 di giugno 33.187, ha chiuso il gap del massimo del primo di giugno 33.167 e adesso è avviato su supporti statici fondamentali per il trend di breve, ovvero 32.704 minimo del primo di giugno e 32.586 minimo del 25 di maggio. Qui credo, perché cominciamo a essere anche in ipervenduto, 16 di stocastico, 28 di RSI, dovrebbe provare a fare una base. Standard & Poor's 500, qui abbiamo una situazione che è leggermente migliore, anche se è stato chiuso il gap lasciato aperto a 4.232 il primo di giugno, oggi il minimo è stato a 4.222, perché abbiamo ancora un baluardo rappresentato dalla media mobile a 200 che è 4.202. Se dovessimo perdere anche la media mobile a 200, gli obiettivi successivi sarebbero 4.171, 4.166 e poi 4.156 minimo del 26. di maggio. Nasdaq Composite, qui la situazione è leggermente meno pericolosa perché non è stato ancora perso il minimo del 27 di settembre di 12.963. Sotto questo livello avremmo 12.903, 12.889, ma il Nasdaq mi dà l'idea che possa anche provare a tenere questi livelli di supporto e magari ritornare a chiudere il gap a 13.467 e poi a ritestare la media mobile a 100 a 13.541. Nasdaq 100 vale più o meno ovviamente lo stesso discorso fatto per il Composite, il minimo importante per il breve anche qui è quello del 27 di settembre, 14.432. Se non viene perso questo livello come per il Composite abbiamo la possibilità di andare a chiudere il gap lasciato aperto a 14.967 sul minimo del 20 di settembre e poi la media mobile a 50 a 15.151. A ribasso i target sono 14.314, 14.283 e poi 14.219, 14.216. Ma ripeto, se devo oggi dire qual è l'indice americano che ha qualche possibilità di rimbalzare prima di andare a vedere nuovi minimi dico ovviamente Nasdaq Composite e Nasdaq 100. DAX, qui il segnale è piuttosto brutto perché vedete il minimo del 28 di settembre e 15.138 oggi è stato perso in maniera molto molto netta. Mettiamo subito un time frame settimanale e vediamo che ormai rimane un primo baluardo a 15.020, poi addirittura potenzialmente si può arrivare a 14.664, 14.458. Daccarant, anche qui rottura dei minimi di periodo per cui dobbiamo andare come per il DAX su un time frame settimanale, direi che il target 6.861, 6.845 e poi 6.796. Eurostox, anche qui vedete, vi riporto un attimo al giornaliero, nuovo minimo di periodo, quindi di nuovo passiamo al settimanale e vediamo che ormai probabilmente rimangono come livelli 4.025, 4.018 e poi 3.980. Diciamo che se va praticamente sotto 4.018 annulla sostanzialmente quasi tutto il rialzo del 2023. Eurostox banks, andiamo all'Eurostox banks, in questo caso continua la correzione iniziata nella seduta di ieri, prossimi target 108.4, poi media mobile a 100, 108.06, minimo dell'11 di settembre 107.41, media mobile a 200, tra l'altro è 107.2. Fuzzi Mib Futures, siamo appesi a un filo perché vedete che siamo arrivati praticamente su un supporto statico davvero importante, 27.510, 27.470, il minimo di oggi è stato 27.460, adesso in after hour sta tentando un timido rimbalzo. Se dovessimo andare sotto il minimo di oggi, l'obiettivo più probabile diventa la media mobile a 200, 27.305. Questo minimo del 27 di giugno è 27.300 e poi abbiamo il minimo del 26 di giugno è 26.980. Diamo uno sguardo anche a Midcap che oggi scende e torna purtroppo sui minimi di periodo per cui vale quanto vi avevo già detto di recente, ovvero che se fosse stato perso il livello di 38.906 andiamo a prendere un time frame settimanale e vedete che praticamente l'obiettivo diventa a questo punto 38.678 e poi 37.674. Per quanto riguarda il Fuzzi Star siamo molto vicini ai minimi di periodo per cui situazione anche qui piuttosto simile, livello che non deve perdere 41.192, dobbiamo andare a prendere un time frame settimanale e vedere che il prossimo obiettivo è 41.032 e poi 39.9.37. che è un minimo veramente importante della prima metà di ottobre del 2022. C'è sempre il solito problema dei, secondo me, troppi scambi in asta finale perché anche oggi abbiamo fatto 2 miliardi 139 a fine giornata. Vediamo pre-asta, ho qui il dato che mi manda Renato tutti i giorni. E qui 1.692.000, quindi cosa intendo dire? Che purtroppo ci sono più del 20% di scambi nelle sole aste finali. Oggi tra l'altro, riprendiamo un attimo il Fuzzi Mi Futures, siamo quasi a 20.000 contratti per cui ha scambiato anche in maniera piuttosto significativa il nostro FIB. Andiamo a vedere adesso i titoli migliori e peggiori del Fuzzi MiB. Dobbiamo partire assolutamente da Prismian. Io notizie non ne ho trovate. Oggi la candela è molto brutta perché perde Mediamobile a 50, 36,92, Mediamobile a 100, 36,60, scusate, prima quella a 200, 36,66, quella a 100, 36,60 e va vicina a questo minimo importante che è 35,93 del 25 di settembre. Poi c'è questo 35,88, 35,85 e 35,52. Considerato che c'è anche un gap da chiudere sul massimo del 21 di agosto, 35,12. Che idea mi sono fatto su Prismian? Che è uno dei pochi titoli che era piuttosto vicino sia ai massimi di periodo e, mi riferisco al 15 settembre, peraltro loro stessi vicini ai massimi storici, andiamo a rivederli velocemente, erano stati praticamente nella prima metà di marzo di quest'anno a 40,07, per cui ci può stare che anche Prismian venga venduta. Per Nexi, ennesimi minimi storici, io non ho più comprato alcun titolo, sto aspettando che faccia una nuova base, al momento è un titolo da lasciare assolutamente stare. Come si sta comportando piuttosto male anche Enel? Perché vedete che Enel è andata praticamente, o sta tornando praticamente, sui minimi della ultima settimana di marzo di quest'anno, ovvero 5,41,6, il minimo di oggi è stato 5,48,1. Quindi vedete che è in una situazione di ribasso piuttosto definito. Poi vedremo altre utilities che sono state vendute. Brutto segnale anche da parte di Case New Holland che perde il supportone e direi che a questo punto abbiamo un primo livello ravvicinato a 10,92,5 e poi direi 10,58. Vi voglio far vedere subito anche Erg, per chi oggi sono riuscito a prendere questo spike, sul titolo e ha fatto un minimo a 21, poi ha rimbalzato subito fino direi a 21,88, 21,90, poi in realtà è tornato a scendere ma fa un hammer, però vedete che minimo profondo perché siamo arrivati a un livello e vi devo mettere un mensile per farvi capire che ci riporta a dicembre 2020, per cui situazione molto complicata. Mi dispiace non tanto perché oggi è il mio compleanno e devo andare necessariamente un po' di fretta, se no non riesco ad arrivare in tempo in centro, però vi dico subito che sarebbe quasi opportuno fare tutto il Fuzzimib. Farò più titoli possibili però per darvi un'idea, vedete Banca Generali dopo la discesa odierna non mi stupirebbe vedere il titolo prima sulla media mobile a 132,08, poi quella a 231,88 e questo minimo del 18 di agosto è 31,77. Unicredit, la mancanza di buyback continua a farsi sentire, oggi perde in maniera piuttosto netta, l'aveva già persa ieri però oggi conferma in maniera netta la perdita della media mobile a 50, 22 e 13, fa un minimo a 21,54, vedete che qua c'è un 21,51 e mezzo, cosa significa che per le prossime sedute possiamo aspettarci una media mobile a 100, 21,076, poi 20,75 e quindi 20,44. Poi anche Telecom è debole, oggi rimbalza in maniera millimetrica dalla media mobile a 50, 0,28,83, minimo di oggi 0,28,84 però non mi sembra ci sia la volontà di creare ancora una base per cui 0,28,71, 0,28,24 gli obiettivi per le prossime sedute. Male anche STM nonostante non abbia ancora dato un segnale di uscita che vi ribadisco essere sotto 39,56, io su STM nutro ancora qualche timida speranza, perché dico timida, perché comunque bisogna fare i conti col mercato, ma qui non mi dispererei ancora. Male anche Stellantis, ma qui ci sta che ci sia un minimo di consolidamento, adesso siamo arrivati su un supporto poco sopra 17,70, sembra che sia la volta buona per iniziare una fase di consolidamento con primo obiettivo media mobile a 50, 17,474, poi minimo del 15 settembre 17,268, poi 17,116, 17,116 minimo dell'11 settembre, gap da chiudere a 17,034. Poi anche se non fa parte il Fuzzi Mib perché è una mid cap, continua la debolezza di Brembo, vedete che sta per rompere l'11,49 e bisogna fare che è il minimo di breve periodo, bisogna fare molta attenzione perché poi probabilmente si va direttamente a 11,24, 11,22 e poi anche a 10,90. Per quanto riguarda invece le banche, oggi Biper venduta, anche se poi fa spinning top, chiude praticamente sulla media mobile a 50, 281,8, però vedo per le prossime sedute un potenziale target sulla media mobile a 100, 274,8, poi minimo del 27 di settembre a 2,72, 4, direi 2,67 e mezzo, 2,65, 8, 2,63, 6, ma fino alla chiusura gap 2,61 può anche arrivare, considerato che poi in realtà la media mobile a 200 e 2,58, 8. Ancora Fineco, innesimi nuovi minimi, io qui vi ho già detto che ho stoppato ieri e non mi sorprenderei di vedere il titolo a 10,67 e mezzo, 10,47 e mezzo. Poi ancora Alzimut che vi avevo già detto in tempi non sospetti che vedevo in distribuzione, oggi arriva praticamente sulla media mobile a 100, perché fa un minimo a 20,28, la media mobile a 120,27, c'è questo minimo a 20,18, la 18 di agosto, poi si può arrivare fino a 20,04 e magari anche fino a 19,80. Poste italiane, altro titolo che comunque ieri era stato molto venduto e sembra ormai voglia andarsi a cercare i supporti più importanti, ovvero 9,41,6, 9,36,6. Poi anche i petroliferi stanno un po' facendo più fatica nelle ultime sedute, vedete che Eni sta andando a cercarsi la media mobile a 50, 14,45, questo minimo del 7 di settembre e 14,43,6, poi qua c'è 14,36, 14,28 e 4. Poi tantissimi altri titoli che hanno fatto delle variazioni invece un po' più modeste. Fuori dal Fuzzimib, sempre nel segmento Mid Cap, bene Brunello Cucinelli perché fa comunque una candela inside di rimbalzo e riesce a tenere i minimi di periodo, per cui vi ho già detto, mi sembra già anche ieri, che 68,55, 75,3 possa essere un trading range per le prossime sedute. Anche fuori dal Fuzzimib più resiliente, la debolezza del mercato, l'ottomatica che sembra anzi intenzionata a ritornare prima, direi in area 9, poi media mobile a 50, 9,12 e massimi qui sono 9,25,6, 9,26,6, quelli potrebbero essere gli obiettivi. Anche Montepaschi si sta dimostrando resiliente, oggi è stata comprata fino alla media mobile a 50, 2,54,3, io continuo comunque a vedere difficile il superamento di 2,55,9, per cui vi ribadisco il discorso del trading range, 2,36,3, 2,55,9. Tenaris sorprendente perché rimbalza proprio dalla media mobile a 200, perché fa un minimo a 14,40 e poi chiude a 14,5,75, la media mobile a 200 e 14,42, gli obiettivi a ribasso sono la media mobile a 100, 14,06,3 e poi questo è la media mobile a 66. Direi che Amplifon è un altro titolo che sta dimostrando una certa residenza, pur avendo fatto quel minimo così profondo il 25 settembre a 26,3, adesso trading range è strettissimo tra 27,53 e 28,62, per cui finché non esce da quel trading range sarà difficile capire la direzionalità. Campari, anche qui altro titolo resiliente, nonostante il gap lasciato aperto a 11,015, qui direi che il movimento attuale potrebbe essere tra 10,83 e 11,39 e mezzo, considerato che la media mobile a 200 e poco sopra, a 11,42,7. Concludo con Italgas che oggi dà un primo segnale di risveglio, perché dopo l'ennesimo nuovo minimo di periodo a 4,69, quindi non è andata proprio a prendere il minimo importante settimanale della terza settimana di ottobre 2022, 4,67,8, ma tenta un rimbalzo anche se non sono convinto che possa bastare. Adesso dobbiamo andare fuori dal Fuzzimil, perché sono veramente tantissimi i titoli che stanno facendo delle performance a dir poco disastrose, perché comunque assistiamo tutti i giorni a nuovi minimi storici su tanti titoli e quando va bene a minimi di periodo, che comunque sono minimi piuttosto profondi. Oggi devo occuparmi per prima di Shuker Frames. Io non vi nascondo che ho provato il titolo e l'ho chiuso in perdita in asta finale, perché comunque ha perso il minimo, il periodo che era 4,11 e mezzo, e ha perso anche il minimo addirittura sul settimanale, ve lo faccio subito vedere, che è questo minimo qui di 3,96 e mezzo, ultima settimana di gennaio 2021. Al di là che il bilancio non fosse così drammatico, poi proverò ad andarlo a vedere meglio, perché magari ci sono delle dinamiche che non ho compreso appieno, perché magari ci sono delle voci che andavano interpretate diversamente, però vi dico subito che purtroppo graficamente potrebbe tornare prima a 3,40 e poi a 2,96. Altro titolo, e qui mi soffermerò poco perché avete capito la mia filosofia, titoli che fanno nuovo minimo storico, purtroppo vanno depennati anche dalla nostra watchlist, perché non abbiamo alcun parametro e mi riferisco a Tribù che fa anche oggi nuovo minimo storico. Poi altro titolo massacrato veramente digital bros, digital bros vediamo un time frame settimanale, anzi mettiamo un mensile che forse si vede meglio, a questo punto potrebbe arrivare fino a 10,26, poi abbiamo un 9,44, però anche questo titolo veramente stravenduto, indubbiamente non era splendida la semestrale, ma non pensavo potesse essere così venduto, praticamente da 17 del 5 di settembre, oggi è andato quasi a 11. Poi faccio sempre i titoli che abbiano scambiato un minimo, se no dovrei citare anche Portobello, ma sapete cosa vi ho detto di Portobello, se l'industria però la voglio fare perché so che interessa a molti, anche qui purtroppo la situazione è veramente molto difficile perché siamo tornati, vediamo se riesco a farvelo vedere togliendo le medie, abbiamo anche dei Bollinger, direi che ormai siamo, oggi ha fatto 3, 2,93, 2,92, 2,88 ultimi baluardi, poi si va addirittura a 2,51. Rimetto un attimo tutto e così passiamo al prossimo titolo, ecco risanamento, risanamento guardate, sapete che ogni sera faccio il briefing con il mio amico Emerick Denarda, dal quale esce poi l'articolo che viene pubblicato su MF, so che molti di voi seguono il titolo, devo dire che adesso ha come obiettivo 0,0655 minimo dell'ultima settimana di maggio di quest'anno, 2023, e poi però si potrebbe arrivare addirittura fino a poco sopra 0,05, 0,051. Devo però ammettere che sono andato a rivedermi i numeri e mi risulta poi, magari scrivetemelo nei commenti, che ormai la cassa di risanamento sia superiore alla capitalizzazione di mercato, magari scrivetemelo per conferma. Digital Value, altro titolo massacrato, vedete che ormai ha perso il perdibile, come diciamo con linguaggio da Trading Room, è arrivata su un primo supporto importante che è 47, terza settimana di aprile del 2021, oggi ha fatto 47,1, potrebbe non bastare, dover andare a 45,8, eventualmente a 44,2. Qui la semestrale non era male, ma ormai, come vi ho già spiegato, il mercato, certi multipli non li vuole più pagare. Poi, altro titolo che il mercato sta vendendo in maniera veramente importante e caleffi, qui siamo praticamente ritornati sui minimi della prima settimana di marzo del 2021, per cui sono titoli proprio da evitare in questa fase quantomeno. Eurogroup Lamination si sta riportando sui minimi storici, per cui 3,78,6 è l'obiettivo per le prossime sedute, se dovesse perdere altro titolo che va purtroppo evitato accuratamente. Oggi nel finale hanno venduto Alerion, Alerion vedete che ha fatto un nuovo minimo di periodo a 25,25 e se andiamo a mettere un time frame settimanale, vedrete che siamo comunque su livelli veramente importanti, perché questo minimo dell'ultima settimana di aprile del 2023, di quest'anno è 25,45, poi c'è un 25,60 che è il minimo della seconda di maggio del 2022, poi si va direttamente a 24, poi 23,7, 22,7. Proseguiamo con altro titolo oggi veramente venduto, AC5, perché poi le utility sono state vendute piuttosto bene, ha poi rimbalzato, ma vedete che è tornata sul supportone, qui probabilmente dovrò dirlo a Fulvio, manca lo storico di quando era ACS Agam, e ha rimbalzato proprio dal livello di non ritorno che è 1,66 e mezzo. Poi ancora Eurotech vendutissima, nel senso che aveva respirato veramente un giorno, un giorno e mezzo, e anche qui è un titolo che sta per tornare sui minimi di periodo a 2,26. Potrebbe anche provare a tenerli, però vedete che se non tiene questi livelli, abbiamo un target a 2,06. Nell'ottica invece di vendite sul settore petrolifero, perché MerTechMont fa parte bene o male del settore oil and gas, seconda assoluta consecutiva di vendite, quasi test della media mobile a 200,362, poi minimo del 14 settembre come obiettivo 3,56,2, avendo la media mobile a 100,3575. Però non mi stupirei di vedere il minimo dell'8 di agosto, 3,47,8. Altro titolo che sta facendo molta fatica di periodo è Italian Design Brand, che ha toccato di recente i minimi storici a 8,70. Dopo la discesa odierna, un engulf in bearish, direi che tra 9,54 in alto e 8,70 in basso, proverà a muoversi in trading range. Salto altri titoli che hanno perso come officina stellare, per esempio, sempre per una questione di volumi, devo però parlare di TOTS, perché mi pare siano arrivati dei downgrade, oggi nuovo minimo di periodo a 32,26, e vedete come stia andando a cercarsi il 31,58, minimo dell'ultima settimana di gennaio di quest'anno, poi si va addirittura a 30,08, 29,90. Altro titolo che è veramente venduto e dà un pessimo segnale oggi è WIT, vedete che anche qui probabilmente il titolo sta andando a cercarsi il minimo della fine di settembre del 2022, 12,85. Poi abbiamo ancora praticamente edilizia acrobatica che è uscito fuori questo debito secondo i ricalcoli per i principi IAS e direi che temo possa perdere anche il 12,60 e tornare a 11,45. Poi direi che potremmo occuparci anche di MAR, che anche MAR, vedete, continua a fare minimi su minimi, adesso probabilmente andrà a cercarsi 10,94, 10,72. Continua la negatività sulle 2 MFE, sia sulla A, vedete questi nuovi minimi, che sulla B. sulla A direi che a questo punto l'obiettivo potrebbe essere prima 0,36 e poi poco sopra 0,35. Anche per la B più o meno c'è la stessa identica situazione, vedete nuovo minimo di periodo anche qui, quindi prendiamo un settimanale e direi 0,54 e 2,0,51 e 25 come obiettivo successivo. Poi sono tantissimi i titoli che in questo periodo fanno male, è stato rimandato il lancio del satellite Vega per Avio, nuovi minimi storici, oggi è il primo giorno che vendono un po', primo giorno, insomma, abitare era stata venduta per, perché comunque ha staccato il dividendo lunedì, però aveva chiuso con una Doji. Adesso è arrivata su un supporto importante che è 5,20, poi ha da chiudere il gap a 5,08 e può tornare a 4,92, quindi dopo lo stacco dividendo è stata un po' abbandonata. IREN sempre per l'ottica utilities, anche qui è titolo venduto e sta tornando in area 1,70, oggi l'ha quasi sfiorata, ha fatto 1,71,2, ha perso però la media mobile a 200, che transita per 1,76,2, ha lasciato un gap aperto sul minimo di ieri a 1,78,1, ma qui se dovesse arrivare anche a 1,65 non dovremmo stupirci più di tanto. Poi Tamburi, devo dire che dopo l'entusiasmo per la messa in vendita di Alpitur sta ritornando verso i minimi di periodo che sono stati a 8,21, oggi ha chiuso appena sotto, ma proprio un tic sotto la media mobile a 200, vediamo se questo livello tiene o se dovesse andare a 7,95, eventualmente chiudere il gap a 7,74. Voglio, potrei andare ancora avanti tantissimo, però concludere con Fiera di Milano, perché mi sono andato a rivedere i dati, mi spiego poco come possa essere tornata ai livelli di fine ottobre, inizio novembre 2020, perché là eravamo in lockdown, il bilancio del primo semestre è veramente molto buono, per cui magari se qualcuno seguisse il titolo scrivetelo nei commenti, perché a questi prezzi mi sembra veramente sottovalutata, anche se può tornare fino a 1,806. Domani cercherò di fare ancora più titoli, adesso voglio passare ai migliori perché ho un po', diciamo, i minuti contati. Take off, take off, primo giorno di rimbalzo, volumi non pazzeschi, però senza esagerare fino a 1,24, 1,40 potrebbe tornare. Poche note positive, allora KME non la sto capendo, non l'ho seguita, vi chiedo scusa, secondo giorno consecutivo stracomprata, vedete che siamo praticamente su massimi storici, c'è l'operazione straordinaria con il concambio con il risparmio, dovrebbe essere l'OPA anche sui warrant, chi l'ha seguita magari potrebbe scrivere nei commenti, però ve la volevo far vedere. Altea invece nuovi massimi storici, tra l'altro con volumi anche piuttosto buoni, Altea ha fatto un massimo a 4,50, oggi quindi titolo fortissimo, e sapete che c'era quella partnership con Redelphi, Redelphi oggi non nuovi massimi storici, ma ben comprata, più 6,50 e titolo che sembra voler tornare a 3,57, poi proprio sui massimi storici a 3,77. Poi altro titolo che fa massimi storici è Circle, qui era uscita una buona semestrale, uno dei pochi titoli stracomprati dal mercato, Destination Italia io la capisco meno, perché comunque l'aumento di capitale lo ha dichiarato, quindi non capisco perché il titolo venga comprato, visto che potrebbe anche essere a 0,65, potenzialmente rimane questo gap da chiudere a 0,95. Beghelli, vedremo ancora dell'interno al di Giampietro, perché per me è stato lui oggi a comprare, lo vedremo poi assieme, il titolo adesso può arrivare fino a questi massimi del 3 di maggio, che sono stati a 0,26,8, e poi sulla media mobile a 200 transita praticamente a 0,26 e 75. Poi direi che sulla stessa falsariga sembra quasi che facciano la gara, anche Bialetti è comprata e anche qui è praticamente il presidente che sta comprando e sta provando a riportare il titolo in area 0,33, anche se qui vi ho detto esserci dei problemi. Primo giorno di recupero di Digital Magic, ma attenzione perché è un titolo che ha fatto anche oggi ennesimi nuovi minimi storici a 2,20, quindi non ci inganni la chiusura a 2,34. Volevo dire il più 2,63, non ci deve ingannare. Ecosante che io sono uscito, l'avevo presa ieri, è un titolo che mi piace molto, se dovesse tornare in area 20 probabilmente sarò compratore. Poi direi che c'è proprio poco oggi perché il mercato è stato veramente venduto, fatemi vedere se trovo ancora qualcosa. Ecco c'è stato qualche, noi la chiamiamo patisserie, su Pozzi che è andato a fare un minimo a 0,99 e poi ha fatto 1,085 con una spinning top, speriamo che tenga almeno il minimo di periodo a 0,97,6 e poi direi che c'è poco o nulla, fatemi vedere un attimo magari, ecco anche se i volumi sono stati modesti, primo forse giorno in cui è leggermente difesa, Carel sta provando a fare base, però qui c'è l'incognita dell'aumento di capitale da 300 milioni se non erro. Quindi direi che possiamo chiudere qui. e ecco guardavo, magari ecco facciamo ancora Sogefi perché continua a essere fortissima e ve ne avevo parlato anche oggi, nuovo massimo di periodo e qua vi avevo già detto come ci potesse essere un obiettivo fino a 1,59, ma ormai manca veramente poco, oggi ha fatto un massimo a 1,54 e 4 e poi direi che potremmo parlare di equita perché vedo qualche timido segnale di risveglio, oggi ha fatto un bel hammer, è andata praticamente a 3,40, ha fatto 3,39 sul minimo della prima settimana di novembre del 2022, vediamo se area 3,40 può iniziare a essere una base per cominciare a muoversi magari tra 3,39 e 3,61. Devo proprio scappare, vi saluto però mi piaceva condividere i miei 50 anni anche con voi, domani sera ci sentiremo sicuramente dopo la chiusura del mercato diurno, giovedì sono in viaggio per Roma, venerdì ho Investing Roma per cui vi preannuncio già che per due giorni non ci ritroveremo sul canale YouTube, sabato poi riprenderà la programmazione consueta. Buona serata a tutti!